incredibile ragazzi è incredibile tutte le volte che dico oggi vado a registrare un po' prima il video c'è il gol al 92esimo io non ce la potrò mai fare a fare un video all'86esimo con la televisione di qua e lo studio di là e nulla anche questa volta veramente il subtirol trova il gol nell'unico tiro in porta no ma quasi del match un subtirol che alla fine viene come spesso accade premiato fortunosamente nonostante oggi comunque ha fatto una partita probabilmente migliore rispetto a quella con la regina però sempre con pochi tiri in porto ho passato un po' la luce perché sembravo molto abbronzato con questo effetto arancione innanzitutto ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo video è appunto un un bari che affronta il match in maniera abbastanza passiva consapevole del fatto che ha due risultati utili su tre quindi per cui è un bari un po' più guardingo diciamo così però ecco è un bari che in realtà non corre particolari pericoli durante il match perché nel primo tempo non c'è un tiro in porta del subtirol tiri che arriveranno poi nella ripresa ma come vi ho detto appunto dopo poi vi racconto tutto come sempre faccio la cronaca dopo è un gol che arriva nel primo tiro in porta vero del subtirol non è che il bari ne abbia fatti tanti di più perché ne ha fatti due però ecco è un match equilibrato nel primo tempo che con il subtirol appunto che ci prova un po' sfruttando le corsie esterne ma il bari riesce a reggere bene alle rare sgruppate diciamo così della squadra bolzanina tira due volte in porta il bari nel primo tempo mentre la squadra di castori come sempre nessuna appunto ho scritto qui nelle mie note è un subtirol che sa di dover vincere almeno una delle due partite per passare il turno e quindi sul finale della partita poi spinge cambia modulo e cambia un po' anche la partita ma appunto andiamo con ordine perché comunque vi ricordo che con due pareggi passava al bari penso che anzi senza penso che se al ritorno il bari vince 1 a 0 passa al bari dovrebbe essere così a parità di risultato e di gol vi chiedo scusa perché ultimamente non si capisce più niente queste cose qui una volta erano molto più chiare però penso che con l'1 a 0 del bari se sbaglio chiedetemi scusa cioè chiedo scusa già non chiedetemi vi chiedo già scusa e mi mi risponderete nel cosa ma credo che con un 1 a 0 del bari a ritorno passi lo stesso il bari io sapevo la parità di punteggio poi ripeto se sbaglio chiedo vegna e chiedo scusa o forse si va ai supplementari e se supplementari rimane 1 a 0 passa al bari forse così fatemi sapere così non sbaglio più niente sul tirol che appunto sa di dover vincere almeno una delle due gare per passare il turno e primo tempo a vara di occasione ragazzi dove il sul tirol spinge a tratti schiaccia il bari un po nella sua metà campo ma è un bari che si difende come dicevo prima bene i galletti si fanno vedere in avanti con una ripartenza conclusa tra l'altro con il tiro centrale di chedira nei secondi 45 minuti succede un po di più è una partita che comunque ha un grande agonismo c'è tanto agonismo abbastanza corretto ma con diversi scontri di gioco poi sul finale adesso vi dico tutto appunto tra l'altro mazzocchi che cerca nella ripresa il gol dell'anno coordinandosi rovesciata spalla la porta alla polpa su un cross teso ma blocca caprile ecco che iniziano i primi squilli diciamo così del su tirol in avanti più concreti perché col passare dei minuti appunto la squadra altotesina ho sempre pure sbagliato altotesina capisce che deve vincerla e poi c'è l'occasione per il bari con chedira che interviene sottoporta sul cross di dorval sfiorando il palo ma è poi questa la vera occasione grossa diciamo la prima vera occasione del match totalmente perché comunque sì nel primo tempo ci sono stati due tiri però è questa la vera occasione diciamo del match quindi solo al 63esimo e al 73esimo suona il campanello d'allarme per appunto il bari la difesa barese perché l'occasione più grossa della partita per il su tirol no che una delle due che ha mazzocchi che tira clamorosamente fuori praticamente un pallone un rigore perché gli arriva questo pallone in mezzo lui lo tira fuori viene tra l'altro subito sostituito non so se era già in preventivo il cambio o se è stato sostituito per l'errore lui è sconsolato lascia il terreno per casiraghi casiraghi eroe del match con la regina casiraghi protagonista anche in questa partita adesso vi dirò il perché è un giocatore a cui io darei sicuramente più minutaggio e che meriterebbe sicuramente più minuti e più chance visto quello che sta dando a questa squadra qui entrando in gara in corso probabilmente per bisoli è è l'uomo è l'uomo del come si dice della provvidenza no quella da schierare in partita in corso lui lo vede così probabilmente può darsi casiraghi tra l'altro che ha un cognome che evoca ricordi nostalgici per i più anziani come me tra l'altro ha subito una buonissima occasione ma spara altissimo su punizione ancora last minute come vi dicevo all'inizio per il subtirol come la regina nel recupero casiraghi inventa questo gran pallone per rover e gol del subtirol incredibile incredibile perché ragazzi obiettivamente davvero questa squadra è cinica all'ennesima potenza cioè ha un due tiri in porta uno lo butta dentro è un gioco che a me non piace oggi mi è piaciuto di più però è un gioco molto difensivo molto catenacciaro che però sta portando risultati non solo al subtirol guardate anche la roma è differente il discorso bologna perché bologna fa del gran bel possesso palla e fa anche del bel gioco lo dice uno che non stima motta ma è reale bologna a volte fa anche 7-8 tiri non è che fa sempre solo due invece il subtirol e la roma ne fanno pochi e quei pochi che fanno ne fanno gol e questo è che dico io un po' come la juve del cortomuso poi scoppia un po' di putifero alla fine tra le due panchine spursi frattali e il team manager del subtirol perché la panchina del Bari chiedeva un fallo di mano se ho capito bene di Larry Vey sull'occasione tra l'altro panchina del Bari che ha da recriminare perché ci sarebbero anche due presunti rigori per il Bari di cui uno anche secondo me forse quello sul possibile contatto con Botta da rivedere e da zona non l'ha fatta vedere praticamente quindi non so dire Sky da zona non mi ricordo neanche dove era stasera la partita e Sky, Sky mi sa e quindi praticamente questo possibile tocco di Larry Vey se ho capito appunto bene nell'azione del gol più i due secondo la panchina del Bari presunti falli di rigore scatenano un po' il putifero alla fine comunque con una partita che come ho detto è stata agonisticamente parlando viva per tutto il match non ha... sono due squadre che si sono annullate reciprocamente più il Bari ripeto molto guardingo cercando di salvare anche un pareggio che alla fine per poco non si stava portando a casa e invece un Suttirol come sempre cinico che la porta a casa anche un po' fortunatamente ma ripeto oggi mi è piaciuto un po' di più caratterialmente sul finale perché ha provato a vincerla ci ha provato ha schierato una formazione inedita per il Suttirol a livello offensivo che spinge avanti tra l'altro appunto con la spinta anche dei due esterni ed ha portato a casa questo risultato che ci farà vivere un ritorno a San Nicola infocato dove sono proprio curioso di vedere come finirà seguiremo anche il ritorno penso di sì lavoro permettendo penso di sì quindi sì mi raccomando iscrivetevi al canale attivatevi al campione mettetevi piaccio condividete e commentate come sempre rispondo a tutti e obiettivamente se no la pensate come me siete liberissimi di scriverlo e in maniera civile appunto sono ben felice di avere anche uno scambio di opinioni diverso con tutti voi iscrivetevi al canale ci mancano poco per arrivare pochi per arrivare al fettici 2000 se non sbaglio 11 quindi spero che ci siano sti 11 perché sono uno di quelli che la serie B la porta da tutto l'anno e quindi meriterei un attimo più di attenzione dai scusate se ve la chiedo così quindi vi aspetto like commento tutto gratis quindi iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video il vostro monte ciao ragazzi iscrivetevi al canale grazie a tutti